Ecco 10 lezioni di marketing e miglioramento personale che possiamo apprendere da Batman. Avere un brand distintivo, Batman ha un brand forte e distintivo, caratterizzato dal suo simbolo a forma di pipistrello. Questo gli consente di essere riconosciuto facilmente dal pubblico e di distinguersi dai suoi avversari. Nel marketing, avere un marchio forte è fondamentale per distinguersi dalla concorrenza e per costruire la fedeltà dei clienti. Essere un innovatore, Batman è noto per la sua abilità di innovare e utilizzare tecnologie avanzate per combattere il crimine. Nella vita professionale, l'innovazione è essenziale per rimanere al passo con i cambiamenti del mercato e distinguersi dalla concorrenza. Avere un piano d'azione, Batman è conosciuto per avere un piano per ogni situazione. Anche nel marketing, avere un piano d'azione ben strutturato e flessibile è fondamentale per raggiungere i propri obiettivi. Avere una mentalità di successo, Batman ha una mentalità vincente, che gli consente di superare ogni ostacolo. Nella vita professionale, avere una mentalità positiva e focalizzata sul successo può fare la differenza tra il successo e il fallimento. Avere un team affidabile, Batman ha un team di alleati fidati che lo supportano nelle sue imprese. Anche nel marketing, avere un team affidabile e competente è essenziale per raggiungere gli obiettivi. Essere risoluti, Batman è noto per la sua risolutezza e determinazione nel raggiungere i suoi obiettivi. Nel marketing, la risolutezza e la determinazione sono fondamentali per superare le sfide e raggiungere il successo. Essere adattabili, Batman è noto per la sua capacità di adattarsi alle situazioni più disparate. Nel marketing, l'adattabilità è essenziale per rimanere al passo con i cambiamenti del mercato e cogliere le opportunità. Essere preparati, Batman è noto per la sua attenzione ai dettagli e per la sua preparazione meticolosa. Nel marketing, la preparazione è fondamentale per evitare errori e per garantire il successo. Essere disciplinati, Batman è noto per la sua disciplina e il suo impegno costante nel raggiungere i suoi obiettivi. Nella vita professionale, la disciplina è essenziale per raggiungere i propri obiettivi e mantenere una performance elevata. Essere un leader, Batman è un leader carismatico, che ispira fiducia e rispetto nei suoi alleati. Nel marketing, essere un leader carismatico e competente può fare la differenza tra il successo e il fallimento.